Siamo qui ad Etna Comics 2023 con Antonio Mannino. Mi puoi dire una cosa intanto? Ha notato una maggiore affluenza quest'anno rispetto all'anno scorso e gli anni precedenti? Ma penso di sì, si è notata una maggiore affluenza, ma mi sembra che sia abbastanza fisiologico una manifestazione che man mano viene conosciuta da più persone, ovviamente man mano viene frequentata da più persone. Perché la scelta di ridurre i giorni di fiera da 5 a 4? Perché 5 giorni sono secondo me troppi, l'abbiamo fatto solo per i 10 anni, non credo che forse capiterà per i 20 anni di Etna Comics, i altri 5 giorni, Etna Comics sarà di 4 giorni, sempre di 4. Parlavamo di Area Games e quella è aumentata sicuramente, proprio esponenzialmente negli anni. L'area Video Games invece, non dico che è andata a ridursi, ma non è mai potuta spiccare. Non è mai esplosa per una questione legata ai grandi marchi, che purtroppo i grandi publisher hanno bisogno di superficie immense, con tetti altissimi, non ce li abbiamo, non possiamo farli. Qual è l'evento migliore, la cosa più bella successa durante questo Etna Comics? La cosa più bella che mi è successa in questo Etna Comics è stato passare tre ore insieme a Samantha Cristoforetti in un momento di discussione intima, molto approfondita, in cui ho scoperto l'etroscena che sconoscevo assolutamente sulla vita di un astronauta e mi ha regalato questa spilla che porto qua ormai da 3 giorni, perché questa spilla è stata nello spazio. e quindi sono felicissimo, la porterò sempre con me ed è il più grande regalo che abbia ricevuto in queste giornate. Sicuramente quest'anno ci sono state nuove cose, abbiamo visto nuove aree migliorate. Rispetto agli anni precedenti cosa è stato aggiunto? Quali sono stati gli incrementi? Tutto è sempre diverso, non c'è mai un Etna Comics, è sempre una macchina diversa. è una festa che ogni anno ha delle cose diverse rispetto a quelle che aveva l'anno scorso. Poi logicamente le aree si chiamano in quella maniera, perché dentro quelle aree succedono quelle cose legate a quel tema, ma non c'è mai nulla di uguale rispetto agli anni precedenti. Gli obiettivi futuri, a parte ovviamente crescere, quello sembra... No, continuare con questo stile che piace alla gente, questi messaggi semplici, immediati, senza fronzoli, con un spirito molto goliardico, perché con i sorrisi si insegna molto di più che con i bronzi. Ok, invece rispetto magari agli anni precedenti, avete notato una fascia magari d'età che si va a modificare, quindi si stanno avvicinando anche le fasce d'età molto più grandi o sempre magari rimaniamo su una fascia d'età dei ragazzi 20-30 anni? Tu quant'anni hai? 16. Quindi quando è nata Etna Comics tu avevi 4 anni, anzi più piccolo avevi 3, adesso sei invece qua con noi. Quindi vuol dire che noi stiamo crescendo delle generazioni, ovviamente man mano che queste generazioni crescono, abbiamo sempre nuovi utenti e quegli utenti che poi all'inizio avevano 13 anni, oggi ne hanno 30 e quindi sono cresciuti a tutti gli effetti con Etna Comics. Per cui è chiaro che c'è un percorso. Assolutamente d'accordo, grazie mille.